Musica C'è qualcosa di veramente buono da mangiare anche oggi Bambini, Julian, Hannah, Emma, mangiare Oh mamma cosa c'è oggi da mangiare? Oh no, di nuovo le uova Oh no, non è possibile, dai C'è sempre Mamma, dai, davvero Cioè, sei sempre bravissimo a cucinare, Emma Ma nell'ultimo periodo fai sempre, sempre Questa torta alle ciliegie e quest'uovo Basta, non puoi fare un po' di spaghetti Julian, ma pensavo che fossi contenti Amate così tanto le uova No, no, mamma, sai cosa si dice? Si dico, eh, abbiamo imparato a dire di no, vero? Allora dico no alle uova No, grazie, vado in camera C'è pronto da mangiare o perché? Non c'è pronto da mangiare o perché stai salendo? No, no, c'è pronto Mamma, non ho fame di quella roba Ciao mamma, cosa c'è da mangiare? Uova e patate? Oh, devo ancora aspettare? Cinque minuti Ma perché mi fece di scendere se ci vogliono ancora cinque minuti? Oh, allora torna in camera e chiamami dopo Anna, ma resta qui Sarà quasi pronto in due minuti Mmm, non c'è niente da mangiare Ma penso che ci ho chiamato Sì, sì, ma ancora cinque minuti Potrei utilizzare il tempo meglio, no? Cinque minuti? Ma passano molto veloce Ora non risalgo Ci metto troppo Oh, uova Le adoro le uova Mmm Oh, Emma piccolina Meno male che una è contenta di quello che faccio Mmm, mmm, mmm Ho dimenticato qualcosa Torno subito Devi aspettarmi Non incominciare Torno subito Emma, rimani qui per favore Non andare su anche tu No Mamma, ho detto che volevo sistemare qualcosa in camera Prima del pranzo Mmm Oh, Emma, dai Non preoccuparti Ci ho già pensato io Siediti Oh, no Mamma, cosa? Volevo farlo da solo Non deve sistemare la mia camera Oh, Emma, non lo sapevo che è così importante per te Altrimenti non l'avrei fatto Sai cosa ti dico? Ora vado su Sono arrabbiato Non voglio le tue uova Oh, non è possibile Oh, questi bambini Oh, ho cucinato per loro Nessun'ora vuole mangiarla Oh, una crisi Oh, tesoro, eccomi Claudia Stai dormendo? Ehi, alzati Martin, no Pensi che non abbia niente di meglio di non dormire nella cucina Sai cosa? I bambini non vogliono mangiare Oh, no, ho fatto tutto per niente Ok, calmati, calmati Mmm, io ho fame Mmm, cosa c'è da mangiare? Ma sai cosa ti dico? Ho ancora un'idea migliore Mmm, finimi di scoglio di cucinare E tu vai pure a sedere Ancora le uova Vabbè, ehm, sì E poi possiamo fare qualcosa insieme Senza, bambini Allora, siediti pure E io sono qui in cucina Oh, no, come si fa? Bambini, cibo! Ce ne sono le uova ancora? Bambini? Non viene nessuno Allora ok, allora lo mangio io Nessun problema Oh, Martin Penso che i bambini non saranno contenti Non li piace quando andiamo via Non mi interessa Sai cosa ti dico? Eh? Dobbiamo passare un po' di tempo per noi Ok? È bisogno di una pausa E sai cosa ti dico? È proprio quello che dirai ai bambini Anna, Julian, è ma a scendere Oh, spero ci sia qualcosa di buono da mangiare Lo spero, tipo, sbagliate la pogognese Oh, no, non vedo proprio nulla Non ho cucinato niente nessuno Oh, risalgo Fermi, fermi, fermi Tutti e tre Tu soprattutto, Julian Potete mangiare dopo, ok? Quando torna una babysitter Oh, no Non è possibile Babysitter cosa? Ma cosa ci serve una babysitter? Oh, non vedo qui nessun baby Ok, forse Ehi Oh, papà, per favore No, 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 no Non potete lasciarci qui da sola E poi una babysitter No Ora chiamo qualcosa Julian Ora mi ascoltate tutti, ok? Abbiamo bisogno di una piccola pausa, ok? E per quello io e mamma andiamo alla pista di ghiaccio Da soli Sì, dai, adate Avete ragione Anche noi a volte siamo da soli con i nostri amici Quindi è giusto che avete un po' di tempo Oh, no Bene, bene Allora, verrà una ragazza oggi Non Lena Ma un'altra dell'agenzia di babysitting Eccola Aprite questa porta Sono io, la babysitter Buongiorno Dovete essere mostri, di vero Io sono Claudia Foghe, la mamma Molte grazie Bene, bene Avete già detto lei, fra Foghe Io sono la babysitter Spero di averla fatta bene Ecco, così sono i nostri tre bambini Nostro tri infernale Insomma, Giulia, nanna e Emma Ah, sì, li conosco Non li conosco, ma che carini Ciao, piccolini Sono Molly Li conoscete sicuramente, vero? Papà, papà No, 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 stai scherzando Stai scherzando È un sogno Questa è Molly No, 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 non è possibile Non può essere lei come babysitter Bella, bella questa papà Ora dai Falla pure andare È solo un sogno, vero? No, 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 no Anna, sta succedendo davvero No, 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 no Calmati, calmati Non può farci nulla Ma Molly Insomma, calmati, Giulia Non è mai così grave Insomma, sì, non è così simpatica Sotto alla scuola di mostri Ma quindi? Oh, vedo, vedo che mi capiate molto bene Bene Allora, buon divertimento Noi siamo alla pista di ghiaccio Avete il numero Se c'è qualcosa Ciao, ciao, ciao Ah, 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 ah Buon divertimento Bene, bene voi tre Allora Ah, ah Cos'è il problema? Eh, ho bisogno di salti Per fare questo lavoro Ah, ah E voi dovete aiutarmi Ah, ah Non ho più voglia, ok? Oh, e ora ci sono solo uova Oh, no Molly, Molly L'ho fatto addosso Devi pulirmi Ah, scusa No, che No, è disgustoso Non ho fallo da sola Ma, ma stavo scherzando Ah, ah Sto già andare in bagno da sola Volevo darti fastidio Bene, bene, bambini Tutto quello che succederà ora Rimarà Dimenticato Fatto, fatto Ok Ok, non ti preoccupare Dimenticheremo tutto Sì, ok Va bene Molly Non sei poi così male Eh, poi posso che Che tutti saranno bravi Come te Nella scuola dei mostri Oh, io non posso però Sapere cosa succederà Intanto dico di sì Ok, ok Dimenticato Bene, bene Che cosa c'è Nella agenda qui Come si fa ad essere una babysitter Una babysitter Prepara da mangiare Ok Avete fame bambini Ah, ah, ah Oh sì Ho fame, ho fame, ho fame Ma per favore Niente uova Per favore Anche tu hai detto Anche tu hai detto che non piacciono Tipo gli spaghetti Srebbero fantastici Ok Allora Vi farò qualcosa Di buonissimo Da mangiare Un nuovo mostro Ah, una cosa Della babysitter Ah, ah, ah Bene Allora qui ho una padella E ho bisogno Degli ingredienti Ah, ah Lo sapevo Non c'è niente Nel frigorifero Oh, no Non devo pensare Qualcosa da sola Oh, cavolfiore Eccolo Ah, ah Sarà una zuppa buonissima Ah, assaggiamo Ah, sì È abbastanza Così aspro Ah, ah, ah Bene, bene È pronto Scendete per favore Ah, ah, ah Oh, oh Che cos'è questa È una zuppa Spinace Oh Spero non Basta che non sia Un uovo Eh, eh Com'è, com'è Ah, ah Devo ancora provarlo Scotta Ma cos'è Ah Bene male che chiedi È la mia Zuppa Conosciuta Da tutto il mondo Ah, ah, ah Ma cos'è Ma com'è schifosa Ok Qua è tutta la vita Uova, uova Non so cosa dicono gli altri A me piace C'è di peggio Tipo I broccoli Ah, meno male Che una è contenta Ah Ah Grazie.